Voglio risentire la tua voce, voglio leggere ad una ad una tutte le tue pagine e per togliermi un po' di peso dal cuore comincerò proprio da quelli, non ci crederai, sì, i vaudeville, gli atti unici, quelli che consideravi un po' noiosi, un po' volgari, invece erano nuvole di divertimento, ti uscivano così in un'ora e cinque, non essere gelosa Olga, mi dicevi io ho dovuto aprire la porta, io ho dovuto scrivere per capire me stesso, per capire loro, per capire il mondo e per dare voce a un sentimento che è mio, quel sentimento di profonda malinconia che ti coglie nel veder passare la vita, viva, e ti sembra di stare immobile e non far niente e di riuscire ad acchiapparla soltanto per l'orlo della veste quando è già scappata. La scuola di mia moglie la si può trovare nel vicolore di cinque cani, al numero tredici. Forse è per questo che la mia vita è così piena di disgrazie. Perché abitiamo al numero tredici? E tutte le nostre figlie sono nate il giorno tredici. La nostra cassa effettivamente ha tredici finestre. Eh, vabbè, che farci. Comunque, per prendere accordi, mia moglie la si trova in casa in qualunque momento. Invece il programma della scuola... È in vendita dal portiere, ha trenta copecchi la coppia. Però se qualcuno desidera posso anche provvedere io. Trenta copecchi la coppia? Nessuno lo vuole? Ivan Vassilievich Lomov, il vicino di casa. Beh, ma com'è elegante per una visita di pomeriggio? Ma guarda, ma che eleganza! In frac, guanti bianchi e tutto il resto. Ma state forse andato da qualcuno, stellina mia? Il fatto è che sono venuto a chiedere... La mano di vostra figlia Natalia Stepanovich. Ah! Il vostro acchiappocatai, che vi piaccia o no, è corto di mandigola. Non è vero. È corto di mandigola. Non è vero! Ma perché gridate, signorina? E voi perché dite delle sciocchezze, mamma, se gli ci volete venire in arrivo? Cos'altro c'è ancora? Papà, per favore, dì l'incoscienza. Quale canna è meglio? Il nostro acchiappocatai o il suo zeccaugadai? Stepanovich, vi supplico, dite una sola cosa in verità. Il vostro acchiappocatai è o non è corto di mandibola? Dov'è la porta? Via! Mi sento venire. La gamba non mi risponde. E non mettete mai più piedi in casa, ciò lo fa corto. E questa festa e quest'animale non riuscito, ha avuto persino il coraggio di mettersi in fratto, di venire qui in casa nostra e fare la domanda. Sì, sì, questa festa si infracchetta, si infiocchetta e vi vieni qui a fare delle domande. Ma che domanda mai farà? Che domanda più che faccia? Come che domanda? La domanda di matrimonio. A te. Va bene, Olga. L'orso va benissimo. Sai quante volte mi ha salvato? Quando non avevo più nemmeno un rublo. L'orso va molto bene perché la morte diventa una favola. Verrai a trovarmi? Verrai? E digliela a Stanislavski che la smetta con queste prove. Voi del teatro d'arte siete ossessionati. Vieni a riposarti qui a Yalta. Sarà molto, molto artistico. Eh? Eh, non vieni. Eh, non importa. Non voglio essere seccante. Sofri e taci. È il mio motto. Io starò qui in compagnia dei miei personaggi. Ma lei senza cuore, Luca. E che star lì a piangere e portare il lutto tutta la vita proprio non ne vale la pena. Voi avete dimenticato tutti i vicini. Io capirei se non ci fossero persone per bene, ma il distretto è pieno di signori. Il vostro marito buonanima, che io avevo l'onore di conoscere, mi è rimasto debitore di due cambiali per 1200 rubli. Siccome domani devo pagare gli interessi alla banca agricola, vi pregherei signora di restituirmi i denari oggi stesso. La pistola, signora, va impugnata così. Così? Che occhio. Dio, che donna eccitante. Così? Così. Poi alzate il cane. Questo cane qui sta. Poi prendete la mira. Verrà un giorno in cui sapremo il perché di tutte le nostre sofferenze. La sentite la banda? Si dimenticheranno i nostri nomi, i nostri volti. Ma sapremo perché abbiamo vissuto. Poterlo sapere. Poterlo sapere. Poterlo sapere. I diamanti. Un avvenire luminoso. Poterlo sapere. Poterlo sapere. Poterlo sapere. Poterlo sapere. Poterlo sapere. Grazie a tutti.